Ogni volta, ogni Dakar è ormai diventata una piacevole abitudine, sono terribilmente attratto da questi mostri meccanici, sono i camion Kamaz, i Kamaz russi. Oggi nella tappa più lunga della Dakar, di 850 km circa, hanno raggiunto le massime velocità. Ovviamente sono limitatore, ma questi camion in posizioni normali sono stati testati a 240 all'ora. E qui vedete la manutenzione nel loro punto assistenza, con i meccanici che si adoperano esattamente né più né meno come una squadra militare. Guardate, si può intravedere chi è tutto rigorosamente off-limits, non si può varcare questa linea, però sono molto severi su questo, quindi ci dobbiamo accontentare di vedere questa manutenzione che viene effettuata, ma solo da lontano. Squadra Kamaz, Dakar 2020. Grazie a tutti.